Stanza classicissima con l'ingresso di Thunderman, allora siamo pronti alla partenza. Partiti, cavalli del premio Giochi Club edizione romana, chiuso da grande favorito Alter Adler. Vediamo subito l'aspetto tattico, dall'esterno parte bene Munei Love, parte bene anche Alter Adler. In terza posizione in questo momento troviamo la giubba bianca e nera di Brigante Sabino che ha in scia la giubba bianca e rossa del grigio Thunderman. Al suo interno c'è Road to Arc in coda a tutti, l'altro ospite tedesco Alborz. Si procede così con la prima parte della racchetta fatta un'andatura relativamente bassa. Sempre in vantaggio c'è Munei Love, Alter Adler che galoppa la sua tre quarti, seconda posizione. In terza invece troviamo Thunderman che lo segue da vicino, in quarta invece all'interno c'è Brigante Sabino a precedere Alborz e ancora Road to Arc. Si procede quasi per pariglie, sempre Munei Love che però non sta accelerando, sta anzi graduando a piacimento in questa fase. Alter Adler si è sistemato sulla sua tre quarti, poi Brigante Sabino che ha preso la scia diretta proprio dello stesso Munei Love. Thunderman che segue invece quella di Alter Adler in quinta e sesta posizione. In questo momento ci sono Road to Arc con la giuba rossa e le maniche gialle e poi la giuba verde e le maniche rosa sono quelle di Alborz. Si procede così, sempre di conserva, con in vantaggio Munei Love nel primo tratto della curva. Alter Adler che lo segue ai suoi fianchi, Brigante Sabino che è rimasto acquattato in corda, poi in quarta posizione anche Thunderman con Road to Arc e Alborz a completare il quadro. Sei cavalli in sei lunghezze, nulla che sia cambiato. Quando i cavalli vanno ad aggredire la dirittura d'arrivo, Munei Love entra in vantaggio spostandosi al centro della pista. Alter Adler che ha cominciato la sua progressione dall'esterno, Brigante Sabino che va di dentro, seguito da Road to Arc. Poi ha cominciato la sua progressione anche lo stesso Thunderman che si trascina Alborz. Intersezione delle piste superata in questo momento con il favorito Alter Adler che va in pressione sullo stesso Munei Love. Lo passa in questa fase con all'interno anche Brigante Sabino. Dall'esterno si presenta la minaccia anche di Road to Arc. Tre cavalli che adesso sono in lotta con Alter Adler attaccato all'esterno da Road to Arc che passa in vantaggio. Road to Arc al paletto dei 200 e davanti Alter Adler che prova a rientrare con Road to Arc che sta accelerando l'ultima minaccia rappresentata da Alter Adler che ci prova al suo interno nel tratto conclusivo. Road to Arc che vince il premio del Jockey Club battendo il grande favorito della corsa Alter Adler. Vince Road to Arc dunque con Antonio Orani in sella per il training di Jerome Renier Grazie. 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 Grazie.